Eccola! Quest'opera era necessaria da tempo, questa rotatoria è realizzata con la compartecipazione della regione Marche, 100 mila euro, 50 mila euro messi dal comune per un importo totale di 150 mila euro, realizzata in pochissimo tempo, realizzata con ditte del territorio, con professionisti del territorio. Oltre a dare sicurezza, come dicevamo prima, darà anche maggior decoro e quindi sarà la porta di ingresso per chi viene dalla costa nel nostro nuovo comune. E ringrazio nuovamente tutti i tecnici, la regione, in particolare l'assessore Francesco Baldelli per questa possibilità perché chiaramente è un modo per poter migliorare le nostre infrastrutture strane. Ringrazio anche la provincia per la collaborazione che ci ha prestato perché chiaramente questo intervento è stato realizzato sull'intersezione di strade provinciali. Nel giro di alcune settimane un'altra opera verrà realizzata sempre in questo comune. Sarà un'ulteriore nuova rotonda, ma questa volta a Orciano che andrà a sostituire lo spartitraffico, che regola la circolazione verso San Giorgio e in direzione della strada statale 424 Valcesano. A prendere poi la parola è stato l'assessore regionale Francesco Baldelli che ha ricordato importanti finanziamenti e novità nel 2024 per le province e i comuni della regione, tra cui terre roveresche. La filiera istituzionale quando lavora, lavora insieme senza distinzione di appartenenze, ma anche senza distinzione fra grandi e piccoli centri, costa, entroterra, nord o sud della regione, porta con pragmatismo risultati concreti. Lo è questa rotatoria che qui a Piaggia migliora la sicurezza stradale tra due arterie provinciali molto trafficate. Il comune ha vinto un bando dell'assessorato alle infrastrutture appunto per la sicurezza stradale. Oltre 100 mila euro di investimento che migliora le avviabilità di questo territorio a metà tra costa ed entroterra, ma soprattutto è un segno tangibile dell'attenzione della regione Marche verso i nostri comuni e verso le nostre comunità. Da oltre 30 mesi dall'insediamento della giunta a Quaroli abbiamo già messo a terra oltre 120 milioni di opera per la sicurezza, non solo stradale, ma anche ad esempio quella scolastica o quella per le mura storiche. Un bel successo di vicinanza della regione Marche a tutta la filiera istituzionale sottordinata che sta ben collaborando per mettere a terra queste risorse.